Io con voi vorrei partire dalla fine di questa storia, da quel viaggio sull'aereo presidenziale insieme a Sandro Bertini che giocava a carte e si arrabbiava. Mi raccontate com'è andato, quelle emozioni su quell'aereo di ritorno? Ma quella era l'inizio, perché quando siamo tornati in Italia era iniziata un'altra storia. È stato emozionante vedere un Presidente della Repubblica così attaccato a questa squadra, così attaccato a questa maglia, così attaccato anche alla partita di carte che stava facendo con Zoff, Causio e Berzotte, tanto da arrabbiarsi con Berzotte perché diceva che aveva sbagliato. Ma era una cosa molto simpatica e carina e credo che sia stata una bella esperienza, molto bella. Io e Bruno Conti stavamo guardando la partita, non è usuale vedere un Presidente della Repubblica che si mette a giocare a scopone con della gente, ma Bertini era una persona straordinaria, era uno del popolo, una persona semplice, aveva un grande carisma secondo me. Per quanto riguarda quella partita aveva sbagliato lui, però lui era il Presidente della Repubblica che non poteva fare brutta figura. Ecco, questo ci disse dopo. Berzotte ha definito la vostra vittoria quella di 22 ragazzi perché era una squadra quella che appunto aveva portato alla vittoria, ma una squadra non esiste se non c'è un leader a guidarla. Cosa vi ha dato lui umanamente in quei giorni? Beh, noi abbiamo vinto per lui. L'uomo è stato per noi, è stato tutto, un padre. Abbiamo vinto con lui. Abbiamo vinto per lui e con lui. È stato un condottiero, personalmente un mio secondo padre. una persona che ci ha sempre difeso, difeso con la stampa, con l'opinione pubblica, con tutti i media. È stato oltraggiato, nel senso che è stato anche insultato, offeso, ma ci ha sempre difeso. Come fai a non sposare in pieno la causa, nel difenderlo, nel giocare apertamente per lui? È quello che è successo. Per cui noi abbiamo ricordato, oltretutto volevo dire una cosa, è una persona, io non parlo dell'allenatore in questo caso, parlo di persona. È una persona che è stato sottovalutato da allenatore, ma anche come persona, perché è una persona di un'estrema cultura, di una grande cultura. aveva fatto il liceo classico, aveva studiato, un uomo molto intelligente. Tanti non l'avevano capito, tanti l'hanno sottovalutato. E questo è un dispiacere da parte mia. Questa vostra vittoria arriva in un momento storico per l'Italia particolarmente complesso. Quando è che vi siete resi conto che la vostra vittoria era servita anche come una sorta di iniezione di speranza per l'Italia e gli italiani? Certamente il ritorno. Il ritorno perché noi abbiamo vissuto lontano, a parte la parentesi di Alassio, siamo stati molto tempo fuori, quindi a parte che eravamo informati e sapevamo quello che ci girava intorno. Però la dimensione dell'impresa che avevamo portato a termine, credo l'abbiamo avuta solo a rientro a Ciampino, ecco, tutta quella gente che ci ha ascoltato fino a casa del Presidente. Io sono nata nell'88, però io mi ricordo di quella vittoria, io quelle immagini di Pertini, del... Quando è che voi avete realizzato che quella vostra impresa avrebbe comunque fatto parte della vita anche di generazioni successive a quella in cui vivevate voi? Guardi, io stavamo a Maratea con Paolo Rossi, no? Praticamente era la rappresentazione di un film, non di calcio naturalmente. La cosa che mi impressionò è molti giovani che gli facevano festa, gli chiedevano autografi. Questo per dire che quella vittoria è stata tramandata dai genitori ai figli, perché fu una vittoria importante che, come dire, suscitò molta emozione. Questo è bello. C'è un'ultima cosa che mi interessa molto, perché questo documentario racconta anche di una rottura che c'è tra la squadra e la stampa. Credete che quello sia stato uno spartiacque, che da lì in poi ci sia stato un cambiamento proprio nel rapporto tra stampa e giocatori? Sicuramente un cambiamento c'è stato, non è stato quello che ci ha dato la forza di vincere il mondiale, perché sennò premieremmo troppo loro e questo non va bene. Stare più sereni probabilmente ci ha dato una condizione diversa, però che ci ha messo in una situazione particolare che se non avessimo vinto sarebbe stata veramente drammatica la cosa. Però poi alla fine, come vedi, le vittorie portano sempre a ragionare in maniera diversa. Poi i giornalisti sono stati con noi alla fine, dopo due anni o un anno abbiamo ricominciato a parlare serenamente. Io ritengo che il rapporto che c'era una volta con i giornalisti fosse totalmente diverso e migliore anche. Perché adesso per parlare con i giocatori o con i giornalisti hai bisogno di aver detto stampa e ti danno chi vogliono e parlano molto meno. Invece noi eravamo molto liberi di parlare, anche molto liberi di insultare, come facevano loro naturalmente, perché loro ci insultavano con la penna, noi con la voce. Mi è venuta in mente una cosa, quando appunto lei ha detto che forse era meglio il rapporto che c'era prima, avete nostalgia di quei giorni, di quel calcio? Nostalgia? Forse sì, tra l'altro noi, tieni presente che siamo tre su quattro, anche Spadino sì, quattro, che facciamo i commentatori, per cui commentiamo il calcio attuale. Per cui ogni tanto ci viene un po' di nostalgia di quel calcio che era sicuramente un calcio più umano, però ci dobbiamo rendere conto che non è cambiato solo il calcio, è cambiato la società, è cambiato tutto. Per cui lo contestualizziamo, cioè in questo momento lo commentiamo perché è così, con la tecnologia che fa la parte da padrone, per cui, però, ripeto, L'accettiamo. L'accettiamo, però sono ben felice di aver fatto parte di quel calcio all'interno, devo dire la verità, anche se era meno social business, meno economico, ma un calcio molto più umano. L'accettiamo.